In questo video vi raccomando come funziona il pannello del micromotor. Prima di tutto, sul display puoi vedere la velocità del micromotor. Per impostare la velocità del micromotor, puoi usare l'arrivo e l'arrivo di sotto per impostare la velocità. Per impostare la velocità, puoi usare l'arrivo di lampo, questo. Devo continuare a pressare l'arrivo di sotto per alcuni secondi. Per impostare il modello del micromotor, puoi continuare a pressare l'arrivo di sotto per alcuni secondi. Per salvare il parametro del micromotor su una memoria, numero 1, numero 2 o numero 3, puoi continuare a pressare l'arrivo di corrispettivo. Inoltre, se puoi pressare l'arrivo di una volta, puoi lanciare dalla memoria il parametro del micromotor. Il botone di seconda funzione permette di usare altre funzioni sul pannello del controllo. Prima di tutto puoi pressare la seconda funzione e pressare l'arrivo di sotto per impostare la velocità del micromotor. In questo caso, 2000 rpm. Inoltre, puoi pressare e continuare a pressare il botone di seconda funzione e pressare l'arrivo di sotto per impostare la velocità. L'ultima cosa è che puoi pressare a pressare il botone di seconda funzione e pressare il botone di moda di reverse per entrare in questo menu. In questo menu, puoi impostare la velocità del micromotor. Puoi impostare tra il botone di 0.5 e 3.5 N per metter. Per esitare da questo menu, puoi continuare a pressare il botone di seconda funzione e pressare il botone di moda di reverse. Ora, puoi raccontare come funziona il botone di duopad per controllare il micromotor. Il pannello del controllo indica la velocità del micromotor. Indica il micromotor seleccionato se hai due micromotori invece di solo uno. Qui indica il torque del micromotor. Qui indica se il led del micromotor è avvicinato o avvicinato. Questo permette di girare la girare o la girare o la girare o la girare o la girare. Se vuoi iniziare il moda di reverse, puoi continuare a pressare questa funzione e attivare il moda di reverse. Questa è usata per seleccionare la radia tra il controllo indica e il micromotor. Quando il micromotor funziona, puoi vedere sul screen l'attuale velocità del micromotor. e usando il down arrow in the up arrow, puoi impostare la velocità del micromotor durante l'utilizzo. Aggiungere questo botone, puoi entrare in un altro menu per impostare la velocità del maximo. Quando il micromotor non funziona. e con il down arrow in the up arrow, puoi impostare la velocità del maximo. Con il 15% puoi impostare la velocità del maximo a 20.000 rpm. Se puoi impostare di nuovo il botone del menu, puoi andare in un altro menu. In questo menu puoi impostare la velocità del micromotor. Puoi impostare la velocità usando le arrabbi. o il botone del 50% in questo modo. Puoi impostare di nuovo il botone del menu per entrare nel menu scalaire. Se hai un scalaire connesso al duopad, puoi impostare la velocità direttamente dal pannello controllo. In questo modo, puoi impostare la velocità o la velocità del micromotor. Puoi impostare il botone del menu per entrare in questa scala, in questa scala, la scala di impostare. Usando questo botone puoi impostare il parametro del micromotor. In questo modo, quando puoi impostare la unità dentale, il pannello controllo è impostato con questo parametro. Con questo botone puoi impostare e impostare la velocità del micromotor. Puoi impostare una volta il botone del menu per entrare sulla scala principale. Grazie a tutti!